Uè non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video che sono XIUDER e ragazzi quante novità anche oggi per quello che riguarda il nostro Fortnite ed i prossimi giorni. Man mano che ci avviciniamo ad ottobre e oramai non è che manca proprio così tanto escono sempre delle grandi novità per quello che sarà l'evento che ci porterà alla season 11 ma anche all'evento già si parla di Halloween con un grande un grandissimo ritorno. Parleremo infatti del possibile coming back nello shop della Ghoul Trooper e non solo una delle skin più desiderate una delle più ambite molti la vogliono molti la volevano anche l'anno scorso non è arrivata ma potrebbe confermarsi una mia teoria che era quella dove dicevo che ogni due anni inseriscono nello shop la skin che non hanno inserito l'anno prima quindi vi farò vedere delle cose ma parleremo anche del bundle PlayStation disponibile proprio da oggi non so se sia già disponibile o arriverà nel pomeriggio vi farò vedere le anteprime di quello che potete riscattare direttamente dallo store e ovviamente una bala sbadilata di leaks per tenervi sempre super aggiornati con tutto quello che c'è nel dietro le quinte di Fortnite prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima ve la devo fare la domandina raga ve la faccio sempre vi ringrazio perché sempre in tantissimi rispondete alle mie domandine qua sotto nei commenti quella di oggi è molto particolare mi interessa sapere la vostra opinione quale fucile a pompa a ripetizioni pensi che sia il migliore il tac o il fucile quello il tactical shotgun quello pesante in poche parole noi lo chiamiamo fucile a pompa pesante anche se levi shotgun era un altro insomma gli unici due fucile a pompa a ripetizione che abbiamo in game io ero un grande stimatore del tac però mi trovo molto meglio con quello nuovo è demolitore ragazzi una volta che capisci il timing tra un colpo da un colpo e l'altro è veramente op ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere il primo post di oggi il fortnite celebration pack quindi un pack celebrativo questa è l'immagine ufficiale del pack presente nello store che come vedete ha al suo interno un sacco di roba super interessante c'è un piccone c'è uno standardo c'è un adesivo e c'è anche una copertura per le armi quindi tanta tantissima roba ragazzi vi faccio vedere anche direttamente dagli amici del giappone e adesso vi faccio vedere anche il pack direttamente in game il piccone si chiama pneumatica axe se non ricordo male quindi sarà ascia pneumatica in italiano e la copertura adesso fatemi vedere il nome che ce l'ho qua nella prossima immagine flail è il nome invece dell'adesivo quello che si fa praticamente apparire con il movimento non ho ovviamente i nomi ma noi non ci interessano assolutamente vi faccio vedere un pochettino ragazzi in game eccolo qua ragazzi la copertura come vedete si capisce benissimo quello che c'è scritto in molto carina è copertura animata con delle striature azzurre ed eccolo qua ragazzi il piccone direttamente in game molto carino fermiamo un secondo l'immagine in modo da guardarlo meglio particolare futuristico allo stesso tempo abbastanza carino disponibile come vi anticipavo direttamente da oggi ecco qua le immagini che cercavo si chiama radiant blue wrap quindi radiant il nome della copertura ed ecco qua invece l'immagine direttamente del play store dovrebbe essere come leggiamo lì in alto a sinistra free quindi completamente gratuito dovete semplicemente riscattarlo avere il vostro account associato al ps in modo da poterlo ottenere subito in game e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi questa è un'immagine che gira da un po' di tempo non vi allarmate perché ragazzi potrebbe non essere così lontano dalla realtà questa immagine è un concept ovviamente fatto da qualcuno la ghoul trooper la conosciamo benissimo e la ghoul il ghoul ranger se ne parlava l'anno scorso e come vi ho detto potevano esserci arrivati già a un anno di distanza si parla tanto del ritorno della ghoul trooper in questo evento del fortnightmers di ottobre che arriverà appunto con la season 11 ovviamente se dovessero rimettere la ghoul come hanno fatto con lo school trooper l'anno scorso sicuramente attribuiranno la colorazione viola per chi l'aveva acquistata nella season 1 ma ragazzi quel ghoul ranger è davvero super interessante e tutto ci viene mostrato in una semplice riga di codice che è questa dentro i file di gioco atena commando m che vi ricordo sta per mail quindi maschio halloween ghoul trooper questo è nei file quindi confermato l'arrivo del ghoul trooper maschile potrebbe essere veramente ghoul ranger non sappiamo in realtà ancora il nome ma stiamo pronti con i vbucks perché se doveste volere una delle skin che probabilmente non tornerà più l'anno successivo beh allora vale davvero la pena di prendersi il ghoul ranger e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento si parla invece di un'altra uscita e di queste ore oggi proprio 17 settembre uscirà ne avevo già parlato un mese e mezzo fa abbondante forse anche di più il bundle di xbox che conterrà la skin vertex quindi se per caso non aveste avuto modo di ottenere la skin con i codici dei vari siti in giro o acquistando la versione ed edizione limitata della xbox one non so quanto possa costare io avevo preso un controllo xbox gli avevo dato 70 euro qualche anno fa bundle incluso quindi skin del dark vertex che però attenzione non avrà il piccone e il deltaplano non me lo ricordo perché ne avevano parlato ma avrà dentro 500 V-Bucks se volete il mio consiglio no la skin vertex il bundle è figo se è completo senza piccone e senza deltaplano non so se vale la pena veramente comprarlo e andiamo avanti ragazzi con una informazione molto interessante potrebbe arrivare a oggi non ci sono però ad adesso sono le 23 circa del 16 settembre non ci sono informazioni ufficiali ma giustamente un leakers solleva una questione molto interessante nella patch 10.30 nell'aggiornamento di settimana scorsa della patch 10.30 sono state inserite solamente le sfide riguardanti la precedente settimana e questa settimana o meglio non ce ne sono inerenti a questa settimana se non quelle del rift che ci danno la skin dello scienziato il che potrebbe voler dire che magari oggi arriverà un update è molto interessante questo argomento anche perché potrebbe addirittura essere l'ultima patch della season 10 in quanto il 6 ottobre arriverà il termine di questa season che poi comunque porterà la season 11 l'11 ottobre quando avremo quel lasso di tempo di 5 giorni dove quasi certamente verranno inserite le sfide per gli stili sbloccabili di determinate skin un po' come è successo nelle due season precedenti staremo ovviamente a vedere ma è davvero molto interessante il fatto che potrebbe arrivare un mega mega aggiornamento insomma ragazzi anche per oggi tutte le news disponibili sul mondo di fortnite ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao ciao ciao